Ciao a tutti, sono Romano. Oggi vedremo alcuni esercizi fisici che riguardano la mobilità. Creiamo come ambienti, immaginiamo di essere a casa. Quindi prendiamo alcuni attrezzi molto semplici che riusciamo a trovare a casa, tipo una cintura di un accapatoio, una seggiola. Ricordo che la seggiola deve essere abbastanza resistente e appoggiata a un muro o qualcosa per la sicurezza. Ricordo a tutti, prima di partire, di avere almeno indossato un paio di scarpe da tennis, quindi da non scivolare, una tuta che si accomoda, che non impedisca i movimenti e poi chi ha, e chi se lo può permetter, si lega anche i capelli perché sono sempre fastidiosi quando ci si muove. E ripeto, gli esercizi che andiamo a fare sono di pass intensità, sono molto semplici, servono per la mobilità articolare. Io per fare vedere questo, naturalmente, come ripeto, siamo in casa, adesso utilizziamo quello che abbiamo in casa, vi faccio vedere il mio atleta, che è a classico fisico da divano ed è lui campione del condominio quest'anno è stato. Il piano e rottolo ce li ha mangiati tutti. Marco, ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, partiamo e vediamo con lui di fare qualche esercizio che è inerente alla mobilità. Prima un minimo di riscaldamento, faccio prendere a Marco intanto la cintura, la riconosci? C'è la seggio e la cintura? L'uno delle due è la cintura. Bravo. E iniziamo bene. E questa non l'abbiamo sbagliata. La teniamo soltanto, la possiamo, per chi ha la possibilità e l'altezza, non è la sua, va bene, usarla raddoppiata, come ho fatto a vedere prima, oppure singola e poi la accorciamo facendo dei rotolamenti attorno, rotolandola attorno a una mano o all'altra. Teniamo adesso soltanto in sospensione. e partiamo con tre esercizi respiratori sul posto. Inspiro, fuori, uno, buono, senza esagerare, se no andiamo in iperventilazione poi ci gira la testa, e tre, bene, camminiamo sul posto, via, uno, appoggiare bene i piedi, due, tre, quattro, cinque, sei, sciolta le braccia, sette, lasciamo andare giù, bene, a gambe divaricate, via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, la gamba sinistra rimane ferma, la destra va avanti e dietro, avanti e dietro, uno, via, due, una ballerina, via, tre, forza Marco, andiamo, quattro, via, cinque, via, sei, cambio, l'altro, via, su, uno, via, due, via, stacca pure i piedi, tieni sempre la camminata, quasi la corsa perché man mano che ci scaldiamo accenniamo anche un minimo, aumentiamo l'intensità dell'esercizio, sette, uno e stop, sciogliamo, apro, chiudo, apro, chiudo con le gambe, uno, via, due, via, tre, intanto respiriamo, fuori, quattro, ecco, ricordo che non abbiamo la mascherina a casa, possiamo, se teniamo le distanze, ispirare tranquillamente, inspiro, uno e stop, bene, partiamo dalle spalle, alzate, cerco di tenere sempre in tensione la nostra cintura, non deve cedere sempre, tiriamo ad allungare così attiviamo la spalla, ricordo una cosa, se c'è dolore l'articolazione alla spalla, sospendiamo l'esercizio, ok, nella fatica cerchiamo di gestirla, inspiro, due, su, uno, uno e stop, curando sempre la respirazione, portiamo la cintura dietro le spalle, torsione busto, destra, sinistra, uno, inspiro, due, bravo Marco, via, tre, l'elasticità del netto uno, 5, no, no, sta andando bene, vai, 6, via, 7, ampio, 8, via, 9, 1, ok, avanti con un piede, cambio con l'altro, 1, via, 2, via, 3, via, 4, forza, andiamo, 5, ritmo, 6, via, 7, via, 8, via, 9, 1, riprendo di nuovo la cintura, tiro, l'allungo un pelino di più e tengo i pollici fuori adesso, quindi prima avevamo pollici dentro, adesso pollici fuori, di nuovo alzate, sempre in tensione, la corda, ginocchia sbloccate, bene, appoggiamo il peso, bene, sia sul piede destro che sul piede sinistro, dobbiamo sentire l'equilibrio del corpo, non carichiamo sulla schiena, perfetto, fermo il busto, 8, su, 9, torniamo a pollici indietro con l'impugnatura della nostra cintura, torsione sinistra e destra, ampio, 1, inspiro e butto fuori, è importante lato respiratorio, inspiro, fuori, ci dà ritmo, 3, bravo Marcone, 4, resisti, via, oh sei già stanco, 5, dai tieni duro, 6, forza, 1, e stop, mi metto la cintura, la tengo in appoggio dietro, ritorno alle gambe, corsetta sul posto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il piede sinistro rimane fermo e col destro giro attorno, 10 appoggi, 1, 2, allora qui se abbiamo problemi di equilibrio facciamolo ad agio, 6, 7, 8, 9, cambio, mi fermo sul piede sinistro, giro, via, 1, 2, appoggi spinta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e stop, sciogliamo, ci fermiamo, fermi in questa posizione e recuperiamo un attimo, torniamo di nuovo a prendere l'impugnatura, cintura in tensione, se il gatto non ci è saltato d'osso in questo giro qua, guardi, 2, porto la cintura alla testa del petto, la teniamo un po' più larga, ok, perfetto, dal petto spinte verso l'alto e ritorno, tengo sempre in tensione, tira ad allungare, forza, più tiriamo, più portiamo in tensione il muscolo, lavoriamo un po' anche per la forza, ferma la testa del petto, spingi in alto, non fare finta di tirare, tira, si deve allungare con la cintura, 5, forza, dai Marconi, 6, 7, 8, 9, bravo, sciogliamo, inspiro fuori, tengo sempre tensione sulla spalla, slanci, destra, sinistra, anche qui regoliamo in base, 1, salgo, salgo con la spalla, 2, tengo sempre in tensione la nostra cintura, 3, fuori, 4, ampio, 5, bravo, accorciamo, 6, via, 7, via, 8, molto bene, 9, gamba destra avanti, accorcio un attimo, così va bene come hai messo adesso, alzo le braccia, vado in torsione e slancio, solo sul fianco della gamba opposta avanti, quindi abbiamo la gamba destra avanti, torsione sulla gamba sinistra e slancio braccia, torsione busto e slancio braccia, via e su, 1, tengo bene in linea, 2, cerco di stabilizzare bene con i glutei, tengo 3, via, braccia, busto e tengo col gluteo, 5, su, via, 6, ampio, via, 7, via, cambio, sull'altro, 3, 2, 1, si va, via, bene con i piedi, 1, guarda, su con le braccia parallele, 2, su, via, 3, ecco, se fa male la spalla, come sta urlando Marco adesso, non esagerate, nel dolore ci si ferma, poi nella fatica la gestiamo, 1 e stop, porto il nastro sulle spalle, avvicino i piedi, qui mi raccomando, gambe distese o leggermente flesse sbloccando le ginocchia, fletto il busto in avanti, tesa la schiena, cerco di mantenere la sella della schiena, non la gobba, la sella, vado giù pari, fin dove arrivo e ritorno su, lento, 1, giù, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, fletto ad agio, 6, stringo i glutei, giù allungo la schiena, teso il sedere alto e stringo i glutei, contrazione volontaria del gluteo in stazione retta, 8, giù, 9, 1 e stop, sciogliamo, adesso qua sempre la raccomandazione al pavimento che non sia scivoloso e le scarpe, anche quelle in gomma, 2 appoggi, slancio, torno dietro, 1, 2 appoggi, slancio, sempre la stessa gamba, 1, 2, slancio, 1, 2, slancio, via, calcio, sempre con la stessa gamba, via, 1, 2, via, 3, e ancora i piedi, via, 4, via, cambio, l'altro, via, 1, via, 2, grande, forza, via, 3, via, 4, via, cambio, adesso alterniamo, coordinazione, destra, 1, 2, appoggi, sinistra, 1, 2, calcio, destra, 1, 2, sinistro, via, su, 1, via, 2, via, 3, via, 4, via, 5, via, 6, via, 7, via, 8, via, 9, 1, e stop, recupero spingendo sull'avampiede, quindi lavoriamo sulle caviglie, spinta sull'avampiede e ritorno, 1, spingo su, 2, sei al massimo, 3, no non tocchi, c'è spazio, 5, continua, 6, vai su, dai con quella, 6, oh, su, 8, forza Marcone, 9, 6, e 10, gambe divaricate, questa posizione spingo avanti il bacino, cerco di allungare gli aduttori, Marco un po' di più, dai, più generoso, ampio, perfetto, da qua piego destra e sinistra, diritto col busto, 1, cerco di caricare, spostare il peso sulla gamba destra e sulla gamba sinistra, 3, via, 4, via, 5, bravo, 6, via, 7, ampio, 8, via, 9, 1, avvicino i piedi, mezzo squat, dietro col sedere, non devo caricare troppo sull'avampiede, sto dietro col sedere, mi fermo dopo 20 centimetri e salgo, 1, non carichiamo troppo sull'articolazione, sulla schiena, 2, bravo, 3, vai più dietro col sedere, Marco, 4, via, 5, 6, giù, 7, via, 8, via, 9, 1, sciogliamo, recupero di nuovo, alterno, destra, sinistra, via, 1, via, 2, 1, 3, bravo, via, 4, via, 5, ottimo arcone, dai, 6, su, 7, dai, 8, via, 9, 1, e stop, sciogliamo un attimo, adesso iniziamo a fare un mini circuito di esercizi, utilizzando la seggiola che abbiamo visto, che abbiamo messo qua prima, ricordo, adesso Marco ci mettiamo vicino alla seggiola, ricordo di mettere la seggiola contro una parete, qualcosa, se no diventa pericolosa, quindi ci mettiamo di fronte alla seggiola, puoi appoggiare la cintura, ok, primo esercizio, intanto prendiamo confidenza, siamo a fronte alla seggiola, lì ci possiamo mettere anche adesso su questo, a favore della telecamera, circonduzioni, ampio, delle braccia sul piano sagittale, 1, via, 2, 3, 4, sempre dalla stessa parte, 4, ampio, ampio, fai girare con la spalla, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, via, 9, cambio nell'altro senso, via, 1, 2, ampio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ci giriamo di fronte alla seggiola, lo usiamo come appoggio, non carichiamo troppo sul piede, solo sulla flessione appoggio sulla seggiola, cambio l'altro, braccio opposto in avanti, 2, 1, 2, 3, su, 3, via, 4, ne hai solo due, uno e l'altro, via, dai, 5, via, 6, via, 7, resta con noi qua, dai, su, 8, ritmo, 9, ti hai mescolato, non le trovi più, allora ti metti una scarpa diversa, perfetto, cerchiamo adesso di fare un po', rendere più intenso, un po' veloce, sinistro e destro, sinistro e destro, se non cadi adesso non cadi più, dai, 1, forza, 3, 4, dai, 5, forza, su, 6, bene, non spaccare niente, fermo lì, 1 e stop, sciogliamo, torniamo a braccia, tocco dietro, alto, via, 1, via, 2, via, 3, via, 4, tengo bene il peso sulle gambe, contratti addominali glutei, sì, via, attiviamo sempre un po' le gambe, la muscolatura, non carichiamo la schiena, non stiamo su, bravo, 8, su, 9, 1, stop, utilizziamo adesso la seggio, la seggio senza esagerare, con un calcio giro, sopra, 1 e giro sull'altro, 1, cambio l'altro, 2, via, 3, vai, 4, ci siamo, 5, via, 6, via, 7, via, 8, via, 9, via, recupero, bombola d'ossigeno, no, vieni qua, ci mettiamo in alto, adesso sull'equilibrio, questo è importante, cerchiamo di stare in equilibrio su un piede solo, se non siamo allenati, non è che sia semplicissimo, per almeno 8 secondi, pronti, via, su, 1, 2, 3, vai, resta con noi, 6, ok, continua, riprova, riprova, Marco, 6, 7, cambio, l'altro, via, su, l'altro, 1, siamo abituati, chiaro, perfetto, 5, 6, 7, rifacciamo sull'altro, vediamo se abbiamo sempre, controlliamo se è una gamma diversa dall'altra, che dobbiamo poi riequilibrare negli esercizi che faremo, oh, migliorato, bravo, un caso, un caso, un caso, cambio, l'altro, via, 2, su, eccolo, lei pensa di là, 3, 4, 5, 1, e stop, ritorniamo di fronte, esercizio, adesso sempre per le braccia, recuperiamo, andiamo in circonduzioni delle braccia, 10 in un senso, cambio 10 nell'altro, via, frontale, 1, 2, 3, ricordo sempre che questi esercizi, per chi ha problemi sulla spalla, possono creare dolore, noi non andiamo a caricare troppo, nell'altro senso, Marco, 1, inspiro fuori, 2, se riesci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, utilizziamo la seggiola come appoggio, ci giriamo, fronte allo specchio, partendo in piedi, butto avanti le braccia, vado in posizione seduta, appoggio il sedere, ho lavo la spacca, vai un po' più avanti con i piedi, Marco, ancora un po', ok, butto avanti le braccia, vai dietro con il sedere, ti metti a sedere, mettiti pure a sedere, dai che non te l'abbiamo tolta, sui piedi, via, andata bene, 1, non fidarti, su, 2, ne contiamo 10, noi ci fermiamo a 5, 3, via, bravissimo, 4, via, ok, torniamo di fronte e recuperiamo con l'esercizio di equilibrio, torniamo a prima, su una gamba sola, l'altra la facciamo oscillare avanti e dietro, 1, usa anche le braccia, 2, bravo, ottimo, cambio l'altro, vai Marco, 1, qui quel pocket era rimasto di reputazione, l'hai giocata tutta, 4, forza, 5, 6, ottimo, sciogliamo, rilassiamo, l'altro usiamo adesso come appoggio, torniamo di fronte, facciamo l'esercizio adesso sempre per le braccia, un braccio solo, gambo opposta avanti, circonduzione, ampio, fianco e orecchio, fianco e orecchio, a dorso, 2, 3, 4, cambio l'altro braccio, l'altra gamba avanti, si va, via, 1, 2, 3, 4, cambio, orecchio, braccio, cambiamo senso, orecchio e fianco, 2, 3, si vede che viene dal nuoto, 4, adesso vediamo l'altra, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4 e stop, utilizziamo adesso la seggiola come appoggio, mi metto di fianco, naturalmente se appoggiata contro il muro o altro la mettete in questa posizione, facciamo vedere Marco, ti metti di fianco la gamba esterna avanti, ok, e da qui spingo solo sulla gamba, quella che è avanti è tesa, primo esercizio per la caviglia dietro, spingo, esatto, blocca quel ginocchio, bravo, 3, 4, 3, 6, bisogna metterlo qua su, 1, normale, questo va bene, 8, 9, cambio, l'altra, tesa la gamba avanti, spingo, blocco l'articolazione, il ginocchio avanti è bloccato, vado avanti e spingo sul piede dietro, faccio lavorare, caviglia e polpaccio della gamba tesa dietro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi giro di nuovo senza esagerare oppure chi ne ha lo fa, appoggiamo, usiamo sempre l'appoggio, gambe esterne avanti, scendo e ritorno, il ginocchio non deve mai superare l'avampiede, quindi scendo e ritorno, è sufficiente anche solo questo, 1000 ne devi fare, ne facciamo 5, 5, pronti? Si va, 1, grande, 2, ok, 3, sciogli con le braccia, con le spalle, respira, 4, bravo, cambio, grande, 5, vai Marcone, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, e stop, sciogliamo, rilassiamo, ci fermiamo, l'ultimo in equilibrio, su un piede solo, stop, fermo alcuni secondi, su un piede solo, ok? Adesso chiudiamo gli occhi per 8 secondi, rimanendo in equilibrio, è difficilissimo questo, 1, è quasi impossibile, 2, occhi chiusi, 3, cambio, è impossibile, l'altro, via e guardiamo se differenziano, chiudo gli occhi, 1, 2, 3, perdendo una capacità senso percettiva, naturalmente diventa più difficile quell'esercizio di equilibrio, ok? Noi adesso abbiamo fatto una carrellata di esercizi, dove abbiamo lavorato sull'articolazione delle spalle, dove abbiamo lavorato un po' sul busto e le gambe, che possiamo tranquillamente farli in casa, in uno spazio di 2 metri per 2, ecco, è chiaro che tutti questi esercizi, queste cose, hanno da un semplice a un complesso, da un meno intenso a un più intenso che noi possiamo fare, questo è solo per dare alcuni consigli, perché il movimento è importante, il fatto che ci riusciamo a muovere anche in queste situazioni è importante, è preventivo, è un po' l'investimento sulla salute, quindi io e Marco vi salutiamo e arrivederci.